che vi diremmo io e Nicolò allora io vi faccio una breve premessa prima di Nicolò che è questa poi si attacca lui col suo computer perché si fila solo del suo computer lo so usato intanto noi certifichiamo la cosa per il vostro studio non usiamo le equazioni di Richards complete, ma come vedete ho tirato via dei pezzi prima avevo scritto la forma più generale qui è solo la derivata parziale fatta rispetto a z quando non compaiono le derivate rispetto a y e a x significa che io ho scelto ho certificato l'equazione e l'ho resa unidimensionale cioè ho il solo descrivo di infiltrazione solo sulla verticale le parti parametriche come vedete però la riga 2 e la riga 3 rimangono sempre le stesse cioè riga 2 ho le stesse espressioni della cronocidità idraulica nella riga 3 ho la caratterizzazione di manche cutten dei suoni allora risolvere il sistema uno dimensionale è un po' più semplice che risolve il sistema multidimensionale dal punto di vista della scelta del metodo numerico tutte le fasi che però vi ho amministrato in precedenza e che sono necessarie per risolvere l'orientazione delle derivate parziali rimangono vive e questo è quello che vi spiega adesso il buon Nicolò è un po' più semplice